I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato un uomo che ha accoltellato con due fendenti la moglie a scatenare il gesto violento. Si pensa sia stato uno stato depressivo in cui l'uomo si trova l'operazione dei carabinieri. Si è svolta domenica quando i militari sono intervenuti nei confronti dell'uomo un italiano classe 1953 residente a Binasco. È un pensionato incensurato che oggi ha l'accusa di aver accoltellato all'addome la moglie di 64 anni. L'aggressione è avvenuta intorno alle 5 del pomeriggio nell'abitazione dei due coniugi quando l'uomo ha aggredito la donna colpendola due volte. Subito dopo il violento gesto l'uomo ha chiamato i soccorsi del 118 assistendo la donna fino all'ora arrivo. L'atto violento è riconducibile a uno stato depressivo correlato a problematiche economiche della coppia fanno sapere i carabinieri. La donna lucida e cosciente è stata quindi trasportata in codice giallo e non in pericolo di vita presso una struttura ospedaliera per le cure del caso. Dopo i sopralluoghi dei carabinieri a cui hanno partecipato anche i reparti delle stazioni di Binasco e Motta Visconti, l'abitazione e il coltello sono stati posti sotto sequestro mentre l'uomo si trova ora in carcere a Pavia a disposizione dei magistrati che dovranno interrogarlo e procedere probabilmente a un processo con l'accusa di tentato omicidio.